La Jazz of Omorayem è un evento che ormai da dieci anni caratterizza la città di Torino e ormai non solo, visto che ci stiamo espandendo a livello sia nazionale che internazionale, quindi il mio invito è quello di partecipare attivamente con amici, famiglie, compagni di squadra, compagni di università, chiunque. Mi raccomando iscrivetevi tanti, numerosi, fino al 6 febbraio con un gruppo di minimo 20 persone avrete anche la maglia brandizzata sulle spalle. Grazie